Il rap femminile sta andando veramente di brutto, sia da noi che all'estero e per parlarne qui ho invitato una degna rappresentante della nostra scena. Benvenuta Rochelle! Grazie. Come stai? Bene, grazie. Bene. Grazie per l'invito. Assolutamente dovuto. Parliamo un po' di musica, mi dice che siamo qua per fare questo. Ti devo fare la domanda, quella diciamo rompighiaccio, no? Ti ho invitato per parlare di musica, ma se vogliamo più di rap o trap al femminile. Ci sono state tante portavoce, diciamo, no? di questo genere, già dagli anni Ottanta in poi. Volevo chiederti se ce n'è una in particolare che ti ha ispirato in qualche modo, ma non per forza rapper, sia se una donna che ti ha, diciamo, introdotto alla musica. Allora, beh, io sono sempre stata molto amante del gospel, della musica di chiesa, ok? Questa non me l'aspettavo, questa. No, infatti sono sempre stata fan di Lori Neill, che se vuoi è un po' la portavoce del crossover nella musica, no? Lei nasce dalla chiesa, no? Lori Neill. Io sono fan di Lori Neill. Infatti, cioè non lo sapevo, bomba. No, no, mi piace di brutto. Ah, ripava anche comunque. Sì, infatti, mi sono sempre sentita attratta a lei per tante cose in comune, sia a livello, poi io sono una che guarda un sacco di interviste, quindi anche a livello personale ho trovato tanti punti in comune. Questo perché sei una ragazza colta, perché io per guardare le interviste senza i sottotitoli faccio fatica, ancora oggi. L'inglese lo mastico bene in realtà, sono generazione YouTube, l'ho imparato lì. Eh, infatti sì, io ragazzi sono generazione terza media in cui la prof non mi piaceva. Eh, ti sei dato da fare comunque. Mi sono dato da fare lo stesso. Comunque sì, ti dicevo, sono sempre stata amante del crossover, sia nell'abbigliamento, ovvero mi piace vestirmi un po' che non capisci se da uomo o da donna, e sia nella musica, quindi mischiare il cantare a raccontare rappando, no? Che sono due mezzi che mi piace utilizzare allo stesso modo. Senza per forza sentirmi cantante gospel o cantante pop o cantante o rapper, ecco. Tu cosa ti definiresti quindi però? Ah, tu, tu Rochelle. Rochelle. No, ok, però non vale così, devi dirmi qualcosa, bisogna inquadrarti in qualche modo, sì. Allora lo inquadrerai nell'R&B. Freedom and Blues. Ok, quindi se gli R&B, ad oggi ti diranno tutti che fai R&B, lo sai? Basta, non puoi più fare nient'altro. Vi troverete su quella playlist. Nella scena, diciamo, attuale ci sono tante donne che fanno musica, soprattutto appunto, mi sento di dire, proprio nel rap. Ok. Quindi ti direi chi è che ti piace di questi nuovi, dai, facciamo così. Ok, allora a livello di stile, di abbigliamento dicevo. In genere facciamo sia l'abbigliamento che la musica. Allora no, di stile per me R&B è l'icona di stile a livello di donna che si veste, wow, tipo a go on Instagram, tipo le copie look, capito? Le copie look no, però mi piace la sua attitudine. Poi adesso ha anche lanciato la sua linea di abbigliamento, adesso non sono pagata per questa pubblicità. No, però ne ha fatte comunque, già ai tempi fece le ciabatte, poi ha fatto i make-up. No, ma adesso ha proprio lanciato il suo brand. Oh, ok, tipo Kanye? Tipo Louis Vuitton, Gucci, Fenty. Ah, non lo sapevo. No, è veramente figo. Ha vestito anche Asaprochi. Ah beh, allora è figo, allora. Sì, sì, è super bello. Anche lì, anche lei è molto crossover. A me piace troppo perché... A me piace anche la sua musica. No, anche, assolutamente. Rihanna è una di quelle che mi ascolto volentieri. Quando scelgisco di Rihanna me l'ho data ad ascoltare, adesso è un po' che non esce niente, diciamo. Poi, boh, come nuove, in realtà, adoro Tierra Whack, non so se la conosci. È una rapper, penso sia americana, però anche a livello di stile, lei fa proprio le sue cose, proprio Tierra Whack. Oppure anche Riconesti a livello di stile, super pazza, mischia un sacco di cose, il punk, il glitter, mi piace. Poi anche la sua musica è bella incazzata, è un lato di me che io non ho, per esempio. Io nella musica non sono mai incazzata. No. E tipo, infatti, quando... Infatti, vi dicevo prima fuori quando, ragazzi, Rochelle profuma di zucchero filato. Non saresti credibile, sei incazzata che tipo sei di cupcaker, non va bene. Non va bene. Adesso ti faccio la domanda tipo intervista doppia, ti dico Cardi B o Nicki Minaj? Cardi B. Brava. Cardi B. Anche io, adesso mi diranno tutti i fan di Nicki Minaj e diranno morte. No, invece sono curiosa di sapere chi è, secondo te, un'icona femminile di musica e stile. Sono super curiosa. Perché voi maschi non si capisce mai, capito? Ma nel rap o fuori dal rap? Libero? Ah, cavolo, non ero pronta a questo. E allora... Nel rap, ovviamente è un filone che segui più. Allora, mi piace... Sono abbastanza d'accordo con te su Rianna, per quanto riguarda lo stile. Perché obiettivamente è stata proprio una... Cioè, è stata, è. Però diciamo che adesso è un po' lontana dalla musica, quindi la percepisco come una che quasi è smessa. No, in realtà non è così. Spero di no. No, spero anche di no, però per il momento diciamo che è un attimo di no, però è una che sicuramente ha dettato delle regole per quanto riguarda lo stile. Anche se per dirti poi un'altra che io magari non percepisco perché appunto sono un uomo, però una che sicuramente è molto influente, è stata Beyoncé. Però se dovesse sceglierne proprio una che ti dico, secondo me è quella che ha proprio stravolto tutti con lo stile, è Lady Gaga. Secondo me. Sì, come studio, come una scuola, capito? Sì, vai lì ad attire. Lei secondo me è musicista, esteta, estrema, brava da Dio. E poi non ho capito, cioè io devo anche lanciare un appello, a me non mi è piaciuto molto che negli anni hanno sempre detto a Lady Gaga che era una brutta donna, secondo me invece Lady Gaga non è una brutta donna, cioè semplicemente non è la classica figa, però secondo me invece è una bella donna. Sai che c'era quella roba di quando ha fatto il film con Bradley Cooper? Sì. No, che quasi dicevano, ah grande, c'era, è nato diciamo il gossip che lei aveva sull'inciuccio, no? Ed era nata questa roba della rivincita delle brutte, ma Lady Gaga non è una brutta donna, cioè, assolutamente. Poi nessuna donna è brutta, ogni donna è bella a modo proprio, questo lo devo dire da amante delle donne e non da paraculo. Giuro, eh? Giuro che la penso così. Comunque, per quanto riguarda la musica invece, ti direi, Rosalia mi piace molto. Ah, è Rosalia. E vabbè Cardi B, da Rapper, ti dico, mi piace di brutto perché è strafottente. Ma a livello di musica. A livello di musica. Sì, sì. Ma mi piace proprio la sua personalità, perché sempre parlando proprio di donne, no? Che sono vanitose, lei non è una vanitosa, cioè. No, lei è proprio io. Non ne prega niente, fai video struccate e si rende bella così secondo me. È carismatica. Esatto, è stato troppo importante avere una figura che se ne sbatte, la grandissima. Ed è un esempio, perché quando, io sono sempre di questa idea, è vero dare importanza all'estetica, al dettaglio, al bello, però quando il messaggio deve essere, deve arrivare, non importa cosa tu abbia in faccia, addosso, importa che il messaggio deve essere dritto e lei è lì. Cioè, lei prende la freccia e te la spara nel cuore, capito? Certo, quando deve dire una roba, non le importa in quale momento le viene in mente, dove si trova. È vero, infatti va, le vanno tutte matte per lei per questo motivo qua, perché è una, diciamo, sembra un po' quelle tipe che qua, per dirti, si chiamano le tipe da case popolari, no? Quelle che gridano, capito, che fanno casino e lei è un po', diciamo, quella cosa lì, diciamo, su scala mondiale. Certo. Che fa impazzire, infatti. Vabbè, noi abbiamo Shadi. Sì, è un po' anche così, è un po' Cardi, se vogliamo, bella diretta. E lei non è Cardi, è... Se dovessi lavorare con qualcuno, invece, con chi lavoreresti? Un'artista donna, è sempre. Un'artista donna, io sono molto fan di Ariana Grande, perché, sì, è strana come risposta, ma penso sia workaholic come me, cioè si mette lì a decidere tutte le sue adlibs, le sue armonizzazioni, le torte di voci su Logic, e poi mi piace un sacco il suo stile, nella musica proprio, le sue top line. Mi piace tanto. Comunque mi hai spiazzato, perché alla fine mi hai dato tutti i riferimenti che non c'entrano niente con l'altro. Eh, ma sei così, te l'hai te, crassolo, vedi, non ha le spene. Sei un minestrone, ma come si suol dire. Ti volevo chiedere un'altra cosa, Rochelle. Una cosa che ha caratterizzato sicuramente la mia generazione, ma credo... Quante ne hai tu? Non è elegante da dire in televisione, però... 20... 24 anni, vabbè, dai, non sei proprio... Non sei, diciamo, non hai 30 anni come mai, però non sei neanche una 18 anni, quindi comunque credo che tu abbia fatto in tempo a viverti tutta la generazione proprio... fondata, diciamo, su YouTube, ma quindi video musicali, che per un periodo si sono anche persi nella musica perché andava molto Spotify, per esempio, però i video si erano un po', diciamo, erano stati un po' accantonati. Io, per esempio, ho tanti videoclip iconici di quella che è la mia generazione, di quello che è stato il mio percorso artistico. Tu ne hai uno che proprio dici, oh, mi fa impazzire, oppure, se ne so, lo ricolleghi a qualcosa. Ce n'è uno che ho sempre sognato di rifare. Adesso che lo dirò, però poi lo dovrò fare, perché se no magari qualcun altro... No, c'è un video di Siara, Like a Boy, in cui appunto è quel... sembra la ciliegina sulla torta, è il crossover quel video. Poi lei che racconta se io fossi un ragazzo, nel video c'è proprio lo schermo quasi diviso, in cui lei è donna da una parte ed è uomo dall'altra. Nella donna si atteggia da donna, quindi è tutta super glittery and charming, e nell'altra è Michael Jackson, c'è questa roba di parlare un po' in inglese, un po' in italiano a te comunque, io faccio finta di capire tutto, mentre non so... Ok, dopo ti traduco. E nell'altra è completamente uomo, quindi giacca e cravatta, balla tipo Michael Jackson, è bravissima a ballare, quindi mischia hip hop, R&B, anche la canzone è top. Io non l'avevo visto questo video, infatti dopo me lo vado a guardare, però un video invece a cui hai partecipato tu, che non hai bisogno di rifare perché l'hai fatto, è Le ragazze di Porta Venezia, in cui ho collaborato con tantissimi artisti, a partire dalla Pina, che è stata, se vogliamo, la capostipite di quello che è il rap, l'hip hop con le tette, come lo definiva lei nel 97. Ciao Pina, la saluto perché tra l'altro per me è quella azietta. E come è stato lavorare con tutte queste ragazze, insomma, questo female power, no? Tutte messe insieme. Ah, che tu vuole sull'inglese però. Eh, sì, hai visto, volevo darmi un tono per competere un po' con te. Hai fatto bene. Allora, no, infatti la Miss l'ha descritto il manifesto, ed è stato colossale, cioè quando noi eravamo in Corso Buenos Aires, la gente, abbiamo fermato la strada perché eravamo tante, tutte colorate, ognuno col suo pianeta che, poi noi artisti un po' si vede, no? Quello che hai nella testa esce in qualche modo. Non sempre, però sì, nel tuo caso sì, sicuramente, nel mio anche però. No, a me, cioè, noto che anche chi non è empatico diventa empatico con me, capito? Cioè, se sono in bad mood tu lo vedi, invece se sono tipo accogliente lo percepisci, ok? Vabbè, ci conosceremo meglio. Lavorare con la Miss è stato incredibile, io sono super fan sua, io penso che sia una delle performer italiane più valide che abbiamo. Un'artista coi controcoglioni, ha creato veramente questo concept, io mi sono intrupolata, devo dire, lo dico sempre, mi sono intrupolata proprio perché lei aveva già fatto il remix con le ragazze Elodie, Giontile e Pristis, però volevo far parte anch'io di questa cosa. Ti piaceva? Sì, e quindi un'estate, una mattina, ho scritto una strafa, glielo ho mandato e lei è entusiasta, mi ha accolta nel gruppo. Infatti all'inizio dovevo solamente fare una performance con loro e poi alla fine ha deciso di fare il video anche con me, di far uscire il pezzo. Quindi avete fatto ballotto, non c'è stata quell'invidia, sai che quando c'è un gruppo di donne, se sono più di tre, di solito cominciano a pipigare. Ma no, secondo me è anche un mito da un po' sfatare questo, non lo so, io non l'ho vissuta come cosa, l'invidia o la, come si dice? Sì, la competizione, l'attrito, chiamiamo l'attrito, dai. Sì, ma. Tu sei pixel lover, l'abbiamo detto, profondo di zucchero filato, Rochelle, non sei credibile in niente che sia brutto. Rochelle, io ti ringrazio di essere stata qui con me. Grazie a te. Ti aspetto in studio allora. Tutto quello che dici davanti alle telecamere ovviamente non è più ritrattabile, lo sai? Quindi devi venirci per forza e per voi da casa ci vediamo a IoMTVRaps.